Benvenuto in questo tuo momento di ricarica energetica. Ascolta la mia voce e lasciati guidare. Mettiti in una posizione comoda, seduto o sdraiato. Porta le mani una sopra l'altra sull'ombelico. Chiudi gli occhi. Dirigi la tua attenzione al respiro. Inspira lentamente e senti il tuo addome gonfiarsi come un palloncino. Espira e lascia che le preoccupazioni della tua giornata fluiscano fuori dal tuo corpo. Inspira. Espira. Inspira. Inspira. Espira. Espira. Inspira. Espira. Espira. Inspira. Espira. Espira. Ora sei pronto per rilassare il tuo corpo, porta la tua attenzione ai piedi e sentili diventare più pesanti, sempre più pesanti. Con l'occhio della mente visualizza la forma delle gambe, là dove le percepisci lascia andare ogni tensione. Sposta la tua attenzione alle spalle e sentile ammorbidirsi sempre di più, sempre di più. Lascia che le tensioni del corpo ti abbandoni. Rilassa la muscolatura del viso e i muscoli che si trovano attorno agli occhi. Naso, bocca, mento sono completamente rilassati. Ora sei in connessione con la tua energia vitale. Ti consiglio di fare questo esercizio ogni giorno per ricaricarti e liberarti dai condizionamenti che limitano le tue intuizioni. Ora lascia che una piacevole sensazione di rilassamento e di pace interiore avvolga il tuo corpo dalla testa ai piedi. Stai in questa sensazione per qualche minuto. questa persona era un'escalante, sicuramente non riesce a farmi interrallare il tuo corpo dalla testa ai piedi. Grazie a tutti. 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 Ora conterò da 3 a 1 e quando dirò 1 aprirai gli occhi e ti sentirai lucido e sveglio, pieno di energia. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.